Siamo in collegamento da Roma con Luciana Castellina, scrittrice, giornalista, personalità della politica italiana ed europea che ha avuto a cuore l'Europa, tanto d'aver scritto anche questo manuale antiretorico sull'Europa dedicato ai temi e ai problemi della costruzione europea. Se in questi ultimi mesi noi avessimo dovuto titolare l'insieme dei servizi giornalistici che Euronews ha realizzato sulle gravi questioni europee, avremmo dovuto scrivere Povera Europa, sei arrivata alla fine. C'è qualche speranza di salvare quel che resta dell'Europa? Ma tutta questa discussione sull'Europa è un po' ridicola perché, come dire, anche lo Stato sabaudo era un pessimo Stato ma questo non è mai venuto in mente a nessuno di dire che sarebbe stato meglio tornare al regno delle due Sicilie e allora il problema non è dentro o fuori l'Europa, facciamola o non facciamola è cambiare il modo di essere dell'Europa, che è una cosa molto diversa. Io dico che bisogna puntare sull'Europa perché c'è la globalizzazione, il grosso delle decisioni vengono prese a quel livello pensare di riportare allo Stato nazionale è del tutto illusorio. L'Italia è a un punto di svolta, la sinistra è in frantumi, l'opinione pubblica europea si costruisce a colpi di tweet con le varie tifoserie, la tifoseria un po' più imponente è quella che sta attorno al ministro Matteo Salvini ma cosa accadrà nei prossimi mesi dell'Italia e del suo posizionamento in Europa? Il problema è che si deve cambiare completamente il modo di pensare sulla questione della migrazione che è diventato il tema unico e centrale del dibattito politico e da questo punto di vista Salvini è pessimo ma in Europa sono molti i suoi, come dire, imitatori o comunque precursori che lo sono altrettanto. E la questione dell'emigrazione è diventata una farsa, i numeri, le cifre che vengono date sono tutte false in Italia in particolare abbiamo più italiani, giovani, laureati che emigrano di quanti sono gli africani che immigrano in Italia le cifre che vengono date sono tutte sballate, si è creato a questo punto proprio una psicosi e d'altra parte questi poveracci emigrano qui per colpa nostra, non è che c'hanno voglia, vengono qua per divertimento vengono qui perché scappano da paesi disastrati a causa del colonialismo, del neocolonialismo, delle guerre che abbiamo fatto eccetera basta pensare alla Libia. Lei Castellini ha detto che la rivoluzione francese ha dato un po' di libertà ma non ha dato l'uguaglianza che la rivoluzione sovietica per dare l'uguaglianza ha tolto la libertà, allora qual è la rivoluzione che dobbiamo ancora attendere? Ma è una rivoluzione molto difficile però penso che non si può fare a meno di sperarci perché come dire vogliamo un mondo che non... insomma libertà e uguaglianza sono le due cose principali di una società e vogliamo rinunciarci? Certo ci si può rinunciare ma allora poi abbiamo gli scenari che vediamo gli immigrati ammazzati dentro il Mediterraneo perché sono privi di libertà ma anche perché l'uguaglianza è stata dimenticata.